La missione di cui eravamo incaricati aveva lo scopo di stabilire se gli esperimenti nucleari, sempre più frequenti sulla Terra, potessero determinare conseguenze pericolose per la nostra galassia. Ma entrammo in avaria e finimmo sopra le macerie di Morino, distrutto dal terremoto pochi giorni prima. Una voragine cinghiottì e fumo costretti a ibernarci. Secondo la misura terrestre del tempo sono passati due anni. Adesso dobbiamo tornare alla nostra galassia fra due giorni al massimo e lei, professor Solmi, ci aiuterà. Due giorni? È insensato. Mi chiamo Keina. Questi sono Arti e Belsi, i miei ufficiali. Il resto dell'equipaggio, voi stessi avete visto com'è finito. Temo che lei presuma troppo dalle nostre capacità. Innanzitutto è necessario stabilire se... È una sezione del propulsore pilota di questa astronave. Lei e il suo assistente lo ripareranno nei laboratori termonucleari di Latina. Dai dati elaborati e ritrasmessi dal nostro centro galattico risulta che siete in grado di farlo. Ecco le formule per la fusione del metallo. Si chiama Allerone. No, sulla Terra è sconosciuto. Non appena l'astronave sarà ripartita, potrete tornare tutti in libertà. Per mano di chi? Rice e trasmittenti. Mi serviranno per controllare sui televisori ogni vostro gesto, ogni vostra parola. Automi, insomma. Non si lamenti, dottore. Il suo governo non le chiede di meno.